Quante volte siamo stati con la testa fra le mani, cercando spedizioni che non abbiamo molto male, seduti lì di fronte alle immagini del cuore, a spalle soffrenti e un limpido dolore. E pensare quante volte ci siamo chiesti se c'è Dio per domandargli perché mai, le sue ornacchiante, non le vediamo più, non si sono in più. Scusate, è un po' di scuola. Quando riusciremo ad accertare l'impostura, quando smetteremo di voler spiegar l'amore, perché è difficile spiegare, l'amore non ha regole, le confini, le paure, tanto meno l'impostura. E allora, sì, che avranno finalmente fatto un passo avanti, verso la fine dell'ignoranza, l'amore non ha regolazione. E allora, sì, sì, troveremo la luce nelle terre smarrite. Cosa essere per te, un messaggio di pensiero, che porta al rinfinotino, c'è stato in ogni senso in ogni senso, in ogni senso immenso, in ogni senso dentro, in ogni senso dentro. Tutto domani, tutto domani, tutto domani, tutto domani.